Previdenza del dottore commercialista, ordinamento e deontologia sono stati temi trattati nel seminario che si è tenuto presso la sede dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli Nord. All'incontro si è discusso del tema delle prestazioni previdenziali e della professione di commercialista e sulle problematiche dei professionisti. Andiamo a discutere di problematiche che riguardano la categoria, la categoria che in questo momento vede delle problematiche rilevanti come quella della fatturazione elettronica che ci portano a fare dei ragionamenti in una prospettiva futura e certamente ci lasciano pensare, ci lasciano pensare, tutti quei colleghi in particolare che esercitano l'attività contabile. La fatturazione elettronica può portare certamente una diversa visualizzazione del lavoro, probabilmente un decremento, un decremento verticale, però il futuro certamente non va combattuto, va cavalcato. La nostra categoria, devo dire che in controtendenza abbiamo una cassa in grossa salute con aspettative previdenziali importanti. Ci stiamo muovendo per migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche e devo dire che stiamo facendo un ottimo lavoro perché attraverso delle correzioni ai nostri regolamenti stiamo cercando di innalzare quelle che sono poi le aspettative previdenziali dei giovani i quali chiaramente hanno subito in pieno la riforma previdenziale perché siamo al sistema contributivo quindi l'idea nostra è attraverso un'azione oculata, un'attività oculata, amministrativa e prospettica della cassa si riuscirà ad avere anche prestazioni pensionistiche di grande livello. La nostra cassa di previdenza, che è una cassa di previdenza privata, quindi fatta da dottori commercialisti per fortuna è stata sempre ben amministrata e quindi questo ci dà uno slancio, una prospettiva futura voglio dire meno drammatica di altre categorie che non sono state altrettanto ben amministrate. Il futuro non è sulla cassa che diceva ben amministrata, l'incertezza ma è sulla professione e naturalmente poi le vicende cassa dipendono da vicende della professione quindi in primo luogo la difesa è quella del ruolo del dottore commercialista della figura del dottore commercialista e dell'attività dei nostri colleghi. Oggi è l'occasione per presentare la nostra sezione che è nata da qualche mese e oggi ci sarà praticamente la prima uscita pubblica. Abbiamo pensato di organizzare per presentarci un convegno sulla cassa di previdenza dei dottori commercialisti perché riteniamo che è uno dei punti di forza che caratterizza il nostro ordine professionale. Sul territorio ci siamo prefissati diversi obiettivi e cercheremo di raggiungere tutto ma soprattutto il nostro obiettivo principale è quello di tutelare il scritto del territorio di Napoli Nord nei confronti delle pubbliche istituzioni e nei confronti di tutti gli enti istituzionali.